I social media non esistono. That's it. Social media è una definizione di marketing. Come era stato web 2.0, ve lo ricordate? Web 2.0, non c'è un punto di parlare solo di web 2.0. Perché? Perché le aziende non mettevano più budget su questa roba chiamata internet. Per tornare a rendere sexy internet la soluzione è stata molto semplice. Cognare questa nuova frase di marketing di modo che quando andavi da un'azienda e ti diceva, ma non è mica quella roba lì? Non me lo farai mettere mica lì il budgettino? Tu dicevi, no no no, guarda è una roba nuova. I social media. Wow, ma che è sta roba di social media? Io mi ricordo che nel 2010 in Italia con la società del tempo lanciamo il primo social media tour e portammo in Italia la social media week. Andammo a New York da Toby Daniels che era il fondatore della social media week e lo portammo in Italia, facciamo quattro edizioni. Perché? Se andate a leggere gli articoli dell'epoca l'obiettivo era, sentite questa, far conoscere le aziende l'esplosivo fenomeno dei social media. A questo punto è chiaro che se uno ancora ha il dubbio su quale strategia social fare, ma come ottimizziamo la nostra presenza sui social media? La risposta è davvero molto semplice. Non c'è nessuna strategia social da fare. Perché i social media non esistono. Quello che devi fare è una decisione sola. O decidi di non comunicare, o decidi di comunicare. Se non ti interessa comunicare, è ok. Se sei un brand super fighissimo, se hai scelto la strada dell'analogico perché dici, no a me non me ne frega niente di questo mondo digital, che ormai la comunicazione è tutto, ma dici, no a me non interessa comunicare. Non comunico come strategia di comunicazione. Perfetto, ci sta. Se invece sei come il 99% di noi sfigati, che sei costretto di fatto a comunicare, a quel punto dove comunichi? Comunichi dove stanno le persone, le aziende. Dove stanno le persone, le aziende online 2016 in Italia? Quasi tutti gli individui stanno su Facebook. Quindi già lì li becchi tutti. E in più Facebook, anche il sistema Pay, che ti dà la possibilità di raggiungerli con le tue campagnette. Se sei stato bravo a creare una presenza su YouTube o su Instagram un po' di tempo fa, super, prosegui lì. Oggi è saturo, quindi se parti oggi non partirei lì. Twitter purtroppo è in crisi d'identità. Entro dicembre, il mio personale parere, lo comprano e a quel punto il nuovo acquerente vediamo cosa ne combina. Poi hai LinkedIn, anche lì un po' fermo, però vediamo Microsoft che ne fa adesso post acquisizione. Poi hai New Entry, che ora non sono neanche più New Entry, tipo Snapchat. E poi ovviamente il tuo sito slash blog e tutto il mondo della ricerca Google AdWords a feed. Sta di fatto che ad oggi non c'è un posto con la scritta social media. E dico, siamo aperti. Semplicemente online le persone vanno su questi siti, che non hanno nulla di social e nulla del media tradizionale. Ma dopo l'onda dei blog, tutto il resto l'abbiamo chiamato così. Nel dubbio ricordiamoci questo. Ogni giorno un utente, sul proprio feed Facebook soltanto, riceve duemila contenuti e ne sceglie circa duecento. Se non comunico, qualcun altro è davanti agli occhi dei miei utenti o potenziali clienti, ogni giorno. Magari è meno bravo, magari è un prodotto che fa più schifo, ma gli sta davanti al bulbo oculare ogni giorno. È come dire, vorresti che duemila tizi stessero davanti a corteggiarti tua moglie ogni giorno, sì o no? Oppure decidi di comunicare. In quel caso, inizi a comunicare da subito, in modo intelligente, in modo giusto, sulla piattaforma che preferisci, e lascia perdere le definizioni.